Reati, furti e rapine. Il Sole 24 Ore ha stilato l'annuale classifica che fotografa i delitti commessi e denunciati sul territorio nell'anno precedente. Il rapporto alla popolazione residente sulla base dei dati forniti dal Dipartimento di Pubblica Sicurezza del Ministero degli Interni. Prima di scendere nel dettaglio sulla situazione nelle province di Firenze ed Arezzo, il primo dato significativo che emerge è che i reati denunciati in Italia sono tornati a salire. Esaurito l'effetto legato alla pandemia, siamo nuovamente ai livelli del passato, sorpassando per la prima volta i numeri del 2019. I reati emersi nel 2023 sono stati 2,34 milioni, pari all'1,7% in più rispetto al pre-covid, in aumento del 3,8% sul 2022. A livello nazionale, il poco invidiabile primato va a Milano con quasi 7.100 denunce ogni 100.000 abitanti, seguita dalla capitale. Firenze si piazza sull'ultimo gradino del podio. Quasi 6.054 è il numero di denunce ogni 100.000 abitanti e il numero più alto di rapine in Italia, ma anche furti, violenze sessuali e stupefacenti concorrono a dipingere un quadro che desta più di qualche preoccupazione. Bisogna scorrere fino a metà classifica per trovare la provincia di Arezzo. Precisamente 52esima, con il dato sul numero di reati denunciati totali nel 2023, pari a 10.439, dei quali 4.120 proprio nel comune capoluogo, ovvero quasi il 40%. Il trend degli ultimi anni rispecchia quello nazionale, con il totale dei delitti commessi che sono tornati a crescere, superando quelli denunciati nel 2019. In calo i delitti come gli omicidi colposi, in leve crescita i casi di violenza sessuale, passati da 28 a 31. A livelli pre-pandemia anche le rapine. Scendono i reati relativi agli stupefacenti e lo spaccio, in leve discesa poi i delitti informatici, fatto salvo per le truffe e le frodi online. In cinque anni sono passate da 1065 a 1993, quasi il doppio. Un allarme arriva dalle estorsioni. Nel 2020 le denunce furono 28, mentre il dato più recente ne conta 77. Bene ma non benissimo, quindi per usare un'espressione che recentemente è diventata proverbiale e di uso comune. Bisogna tenere sempre presente che la ricerca prende in analisi le denunce presentate. Non pochi episodi, come quelli che con triste frequenza si sono succeduti sul nostro territorio, sfuggiranno alle statistiche che verranno stilate il prossimo anno, proprio perché i soggetti colpiti in molti casi trovano inutile denunciare l'ennesima spaccata o episodio vandalico che li ha colpiti. Interventi volti a incrementare la sicurezza percepita, con concreti interventi in tal senso, rimangono ancora sul tavolo.